Musica Irsina e Genzano di Lucania, zone rosse, i sindaci dopo l'ordinanza del presidente Bardi incontrano i prefetti. I numeri dell'emergenza in Basilicata, oltre 100 contagi anche nella giornata di martedì 3 novembre. Atti vandalici a Halloween, a Matera denunciati 21 minorenni. Slitta a mercoledì, l'avvio del servizio mensa scolastica nella città dei Sassi. L'attore comico Lucano Dino Paradiso, bisogna sostenere gli operatori del mondo dello spettacolo e i lavoratori con partita IVA. 100 lucani positivi al coronavirus, 98 ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva, 15 guariti e 3 le persone decedute. Sono i dati dell'ultimo aggiornamento che arriva dalla Task Force Lucana, a cui si aggiungono 25 persone di fuori regione. Oltre ai paesi Zona Rossa, Irsina e Gensano, e i due capoluoghi Potenza e Matera, si segnala un aumento dei casi a Ferrandina, Lavello e Melfi. I tamponi analizzati in giornata sono stati 1.146, attualmente i lucani positivi sono 1.657. Lo avete sentito, Irsina e Gensano, Zona Rossa, la reazione dei sindaci nel prossimo servizio. Gli effetti del coronavirus con l'aumento dei contagi in primis si fanno sentire anche in Basilicata, dove da martedì 3 novembre e fino al 13 ci saranno due zone rosse, rispettivamente Irsina e a Gensano di Lucania, i due fronti lucani colpiti dalla pandemia. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della regione Vito Bardi. I cittadini dei due comuni non potranno allontanarsi dai rispettivi territori e non sarà possibile entrare nei due comuni se non per rientrare nella propria abitazione. L'ordinanza prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine grado e delle attività industriali e commerciali, mentre sarà possibile la vendita al dettaglio di genere alimentari e di prima necessità. Restano aperti le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, ma garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza di un metro. L'ordinanza, arrivata nella serata di lunedì 2 novembre, è stata commentata dai due sindaci, Cervellino e Morea, in diretta su TRM Network. La prima reazione, almeno mia, non è stata buona, anche perché è un'ordinanza che comunque crea tante difficoltà ai nostri cittadini. Ci sono delle misure che secondo me vanno discusse, approfondite e devono essere oggetto di chiarimenti, perché onestamente non vedo grosse difficoltà nel consentire l'apertura di un'officina per la riparazione dei mezzi, se non c'è contatto tra cittadini, così come la piccola impresa che fa edilizia in un comune piccolo come il nostro. Però, insomma, ci sono una serie di situazioni che vanno chiarite prima fra tutti, visto che non si può uscire, per quanto riguarda gli operai Fiat, per quanto riguarda i pendolari e i dipendenti, come viene giustificata l'assenza? Perché è chiaro e deve essere chiaro a tutti che i cittadini non devono rimetterci un solo centesimo. Giornata impegnativa quella di martedì, con la partecipazione ai comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocati nelle rispettive prefetture, a Potenza per il comune di Genzano e a Matera per il comune di Irsina. Al centro dell'incontro sono state poste le linee direttive e le indicazioni strategiche che in regione dell'attuale andamento epidemiologico e in base all'ultima ordinanza firmata dal governatore Lucano Bardi devono indirizzare le istituzioni tutte, le forze dell'ordine e gli organismi di controllo nell'attività di vigilanza dei singoli territori. Facciamo ora il punto sulla situazione in generale in Basilicata, l'emergenza coronavirus, col dottor Barile della Task Force. La situazione in Basilicata si è evoluta in queste ultime settimane in modo decisamente peggiorativo. Questo comporta comunque una serie di difficoltà a cascata sul sistema sanitario, a partire dai dipartimenti di prevenzione che fanno fatica a seguire tutte queste persone, a seguire sulle unità speciali Covid che hanno ovviamente le loro difficoltà a tenere e monitorare sul campo tutte queste situazioni e ricadute sul sistema dell'emergenza urgenza e anche sugli ospedali dove la pressione comincia a diventare sostenuta. L'Istituto Superiore di Sanità negli scorsi giorni ha parlato di Basilicata osservato speciale insieme ad altre regioni a rischio. Perché? Praticamente al di là dell'RT, che non è il solo parametro di cui bisogna tener conto, si tiene conto della demografia, del numero dei casi che vengono fuori, che sono comunque consistenti, e delle ricadute sul sistema sanitario, in particolare sui posti letto. Bisogna cercare di dare una risposta più pronta, più tempestiva, più immediata, reperendo in sicurezza strutture che possano garantire la permanenza di pazienti Covid per varie intensità di cura, preservando anche il sistema sanitario che non può venire meno alle sue funzioni, che come abbiamo visto sono altrettanto vitali. Quanto è reale il pericolo di non disporre dei posti letto necessari? Diciamo che con questo trend di crescita dell'epidemia, noi dobbiamo calcolare che ci sarà un 5-7% di crescita dei posti letto giornalmente nelle prossime settimane. Il Ministero già prevede che per fine novembre, in assenza di misure radicali, ci sarà un problema di saturazione dei posti letto. E questo riguarda anche noi, ovviamente. Bisognava, secondo me, fare una programmazione prima, puntando sullo smart working e pensando, diciamo, di sgravare questi mezzi pubblici di quel carico che quotidianamente devono sopportare. C'è stato un po' di rilassamento generale che ha riguardato noi cittadini, ma anche un po' le istituzioni che hanno un po', diciamo, tergiversato e di mirare meglio anche l'intervento dei tamponi, facendola arrivare soprattutto ai sintomatici che si sentono in questo momento a rischio. Individuazione di soluzioni tempestive che andavano previste e assunte già durante l'estate. Lo avete sentito, massima attenzione sui posti letto, ma anche con l'aumento del numero di posti letto in terapia intensiva e nei riparti di malattie infettive c'è un grosso problema, manca il personale. E l'allarme arriva anche dall'ospedale di Matera. Anche a Matera manca personale medico e paramedico e l'allarme che arriva dalle corsie dell'ospedale Madonna delle Grazie. Non basta aumentare posti letto di terapia intensiva e di malattie infettive, perché il numero degli operatori disponibili resta sempre lo stesso. Ciò significa che il tempo dedicato all'assistenza rischia di calare drammaticamente. L'annunciata seconda ondata di contagi di coronavirus è ormai realtà e il virus si sta di nuovo ospedalizzando. L'urgenza è sempre la stessa, contenere la situazione negli ospedali e nella terapia intensive. Ma cosa è stato fatto finora? Non si doveva o poteva fare prima? Con i camici bianchi ormai allo stremo, l'azienda sanitaria di Matera prova a correre ai ripari con esiti infelici. In cerca di 20 infermieri per potenziare l'attività di monitoraggio e contrasto alla diffusione del Covid-19, nei giorni scorsi l'asma ha inviato un telegramma a 350 idonei di una graduatoria di 1421, ma hanno risposto solamente in quattro. A livello nazionale, in una lettera aperta a governo, regioni e cittadini, il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, la Nao Assomed, rileva come alla carenza di personale si sommano disorganizzazione, precariato, turni massacranti, spostamenti tappabuchi, assenze di tutela e indenità. Per questo, afferma il segretario Carlo Palermo, abbiamo inoltrato una diffida contro lo spostamento selvaggio del personale per colmare carenze al di fuori dei requisiti di legge. E sempre per l'emergenza coronavirus una comunicazione di servizio arriva da Potenza. Il sindaco ha annullato il mercato mensile e ha deciso lo stop notturno dei distributori automatici. Ora voltiamo pagina e torniamo a parlare degli atti vandalici commessi ad Halloween a Matera. Ebbene, ci sono state 21 denunce. Nella notte di Halloween, nella zona Acquarium di Matera, hanno danneggiato. Automobili in sosta ha incendiato quattro cassonetti della spazzatura a vario titolo. La polizia ha denunciato per questo 21 ragazzini tra i 14 e i 16 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli atti vandalici sono stati commessi in modo plateale e goliardico, senza alcun motivo di protesta politica o contro le restrizioni decise per contrastare la diffusione dell'epidemia da coronavirus. Otto sono state le automobili danneggiate, tre sono state imbrattate con spray e alle altre cinque sono stati infranti gli specchietti laterali. I ragazzini hanno anche utilizzato alcune bombe carta e mortaretti che hanno provocato l'incendio dei cassonetti. Nella notte di Halloween, la polizia aveva già bloccato due minorenni, poi gli altri 19 sono stati identificati anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Slitta di un giorno l'avvio della mensa scolastica a Matera parte domani. È stato prorogato a mercoledì 4 novembre a Matera l'avvio del servizio di mensa scolastica. Inizialmente previsto in partenza il 3 novembre, al fine di garantire il servizio in massima sicurezza e per motivi non dipendenti dalla sua volontà, la ditta Ladisa, che si occupa di preparare e distribuire i pasti all'interno delle scuole, ha necessitato di un giorno in più per la messa a punto del protocollo con cui verrà espletata la procedura di distribuzione. Le misure tramite le quali gli alunni potranno usufruire del servizio saranno le seguenti. Tutti indosseranno i dispositivi di sicurezza previsti dal piano di autocontrollo e seguiranno le prassi igieniche, areazione e sanificazione del locale refettorio prima dell'accesso alle classi, disinfezione di tutte le superfici, allestimento delle postazioni per gli studenti con distanziamento obbligatorio a posti alternati con almeno un metro di distanza e con piatti e posate compostabili singoli. Lo scodelamento del cibo avverrà attraverso un vassoio di distribuzione. L'operatore a distanza lo consegnerà ad un collega che lo porterà al posto dell'alunno. Non verrà distribuita la frutta fresca per evitare contaminazioni attraverso l'operazione di sbucciamento di taglio e verrà sostituita con succhi o mousse di frutta bio. E infine, dopo il pranzo, l'operatore toglierà dai tavoli i piatti sporchi e disinfetterà nuovamente tutte le superfici. Si è in attesa del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Intanto a Potenza c'è stato un sit-in del Comitato Scienze Motorie. Studenti magistrali e personale delle Scienze Motorie e diplomati ISEF è la rappresentanza lucana che ha manifestato, come in altre parti d'Italia, con un sit-in contro i DPCM del Governo. A rischio hanno ribadito, dinanzi al campus universitario a Potenza, non solo l'attività motoria in ambito scolastico e nelle palestre, ma anche il futuro di una figura garante per il benessere dell'individuo. Centinaia di colleghi che lavorano sia come docenti di educazione fisica, sia come docenti nei progetti sport e salute, in precedenza il CONI faceva per quanto riguarda la scuola primaria, è un numero anche considerabile di docenti che lavorano nelle strutture, chiamiamole private, quindi nelle palestre e nei centri di personal trainer. L'esercizio fisico è un bene essenziale, questo esercizio fisico, soprattutto nelle sue declinazioni, chiamiamole così più scientifiche e anche di prevenzione, deve essere esercitato dal laureato in scienze motorie, dal diplomato ISEF. Possiamo dire che mettiamo in evidenza tante necessità, tra le quali quella anche dell'insegnante di educazione fisica nella scuola primaria, con un iter parlamentare già avviato, noi cerchiamo di spingere verso l'approvazione di questa riforma importante. La palestra non è solo culturismo, fitness, ma è anche benessere. Attualmente ancora non rientra tra le materie appunto della scuola primaria, quindi noi ci ribelliamo anche a questo, perché attualmente ci troviamo anche tramite dei progetti ed entriamo nelle scuole primarie e ci troviamo davanti a dei bambini che non sanno comportarsi, non sanno gestirsi e non sanno gestire il loro corpo nello spazio e non sanno fare neanche una capriola. Intanto vi saluto e vi do appuntamento alle prossime edizioni.